Salvini, la consulta ha certificato le 500.000 firme per cancellare la legge Fornero, ora manca solo il sì della consulta e poi in primavera si può davvero esodare la Fornero? Sono felice, diciamo che ogni tanto qualche soddisfazione al di là dei sondaggi positivi serve, perché oggi leggo che Renzi ha pranzo con Berlusconi per parlare della legge elettorale, leggo che i 5 Stelle lavorano col PD per le nomine alla consulta, chi se ne frega, e noi invece raccogliamo il frutto di mesi e mesi di lavoro, quindi 500.000 volte grazie a chi ha firmato, grazie ai militanti, non facciano scherzi a Roma, se per caso qualcuno dalle parti della Corte Costituzionale pensa di fregare il diritto al referendum andiamo non a fare i forconi ma qualcosa di peggio e poi in primavera ridiamo giustizia a qualche milione di persone, non solo pensionati ma anche i giovani che la legge Fornero condanna il precariato per anni e anni, quindi è la miglior risposta alle politiche delle parole, questa è la politica dei fatti perché possiamo aiutare tanta gente, la soddisfazione è che in rete tanti dicono io non ho mai votato la Lega, magari manco la voterò, però grazie, quindi il grazie di questa gente è il nostro miglior risultato. Un'altra battaglia leghista che è da sempre quella contro l'occupazione abusive delle case popolari e contro i campi romi irregolari sta diventando anche protagonista sui cosiddetti giornaloni nazionali. Altro successo, se ne parla, ne parlavamo solo noi e quelli della Lega isticano all'odio, sono paure che non esistono, lo dice gente che non vive in un campo rom, che non prende la metropolitana, che non rischia di trovarsi la casa della nonna occupata dai primi due zingari o magrebini che passano lungo la via. Bisogna riportare un po' di normalità, all'idea della legge un po' di rispetto per le leggi, rispetto delle graduatorie, rispetto di chi porta la divisa, rispetto, ecco la Lega si batte per il rispetto, adesso è nell'agenda nazionale, Renzi non ne parla, io sabato andrò a Bologna perché il campo rom dove prendono a schiaffi i consiglieri comunali della Lega è pagato dai cittadini, quella gente acqua, luce e gas pagata dai contribuenti bolognesi, da tutti gli italiani e quindi la normalità, ecco il messaggio che lancia la Lega è di normalità, di tranquillità, di un futuro tranquillo per i nostri figli, non capisco l'agitarsi da parte di qualcuno di Forza Italia, anzi l'NCD non mi interessa niente, rettifico, non capisco l'agitarsi di qualcuno di Forza Italia perché noi vogliamo rilanciare, vogliamo costruire un'alternativa a Renzi sull'immigrazione, sull'Europa, chi ancora oggi difende l'euro o non ha capito o non ha voglia di capire, su temi concreti, sulla famiglia, sulla scuola, sulle alluvioni da evitare e da non piangere con i minuti di silenzio, per cui servono dei soldi che i comuni non possono spendere per il patto di istituzione, insomma un centrodestra riduttivo centrodestra, un'alternativa a Renzi che raduni gli ambientalisti, le casalinghe, i farmacisti, i vigili del fuoco e gente che è tornata ad avere una speranza, ecco la mia soddisfazione è che anche sul sito della Padagna piuttosto che sui social stiamo tornando a parlare a gente che mi scrive io non votavo da dieci anni però ci credo, però ci voglio credere, quindi spero che questo non agiti nessuno perché è un messaggio positivo, non è un messaggio divisivo, anzi è un messaggio che unisce, si è sgonfiato Obama, vuoi che non si sgonfi Renzi. Ecco il premio Nobel per la pace Obama ha vissuto una disfatta questa notte, lei l'ha definito un parolaio che ci ricorda un altro parolaio. Sì, gli Stati Uniti negli ultimi anni, anzi l'amministrazione degli Stati Uniti da distinguere da cittadini americani non ne hanno beccata una in politica estera, volevano bombardare i siriani sbagliati che adesso sono alleati, sono scappati dall'Iraq e dall'Afghanistan dove adesso c'è l'anarchia, hanno sostenuto le primavere arabe dove adesso gli estremisti islamici la fanno da padroni, ciliegina sulla torta, giocano la guerra con la Russia che è un nostro alleato, che è un nostro amico, che ci fornisce il gas, che è un argine contro il terrorismo internazionale e quindi spero che Obama vada a casa il prima possibile e magari che gli ritirino anche il Nobel per la pace che è stato assegnato in maniera imbarazzante.